La situazione è molto grave, è una tragedia in mane per questo territorio e per il nostro paese. In questo momento i vigili del fuoco e i soccorritori stanno cercando di trovare gli ultimi dispersi, che pare sia ad una profondità molto grande e anche dal punto di vista strutturale la situazione è molto precaria e quindi stanno cercando di capire se ci sono persone che possono essere tratte in salvo.